Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme dopo il GF VIP, video fa impazzire i fan, quando tornate in coppia? Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati dopo l'esperienza al grande fratello VIP. Con un video condiviso su TikTok, i due hanno mostrato ai follower di aver trascorso una giornata insieme nel centro meneghino. Il web è impazzito, vi vogliamo di nuovo insieme, si legge tra i commenti. L'esperienza condivisa al GF VIP ha dato l'opportunità a Luca Ivana di ritrovarsi. I fan in queste settimane si sono chiesti cosa fosse successo effettivamente tra i due e se il loro riavvicinamento dentro la casa ha segnato anche un punto di inizio dopo il reality show. Così sembra. I due, infatti, si sono incontrati a Milano e hanno trascorso del tempo insieme. Ma se ci sia effettivamente un ritorno di fiamma, tuttavia, non è dato saperlo. Non poteva sottrarsi lei al trend, ha scritto con sarcasmo onestini, accompagnando la didascalia del video con un cuore di fuoco. Prima di abbandonare la casa, i due si erano scambiati un bacio che aveva riacceso le speranze dei fan e i commenti ora parlano chiaro, tutti rivogliono Luca e Ivana di nuovo insieme. Come una vera coppia. Sarà così? Il video ha dato un'ulteriore speranza agli ammiratori della coppia che non demordono, siete bellissimi. Dovete tornare insieme, si legge tra i commenti sotto al video. Ciao! 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 Ciao!